Sì, guarda, la cosa che fa più piacere è questa, aver visto, forse, non so se è la prima volta, ma una delle poche volte una squadra molto disciplinata, sotto l'aspetto tattico e strategico, anche di come abbiamo preparato la partita, hanno veramente fatto dal primo all'ottantesimo le cose che abbiamo preparato all'allenamento, tutti stati molto disciplinati, tolto, vabbè, una piccola pausa, ma anche dovuta, forse siamo rimasti 6-7 minuti in 13, quindi, vabbè, lì un po' avrà influito, però tolto questa piccola cosa, è un risultato importante, non tanto per il risultato, per i 50 punti, ma per come è venuto. Hai detto bene te, tante volte abbiamo giocato con squadre sulla carta inferiore a noi, ma tante volte abbiamo sofferto e brutta prestazione, magari vittoria, ma tutti scontenti. Oggi, invece, è una bella vittoria, con, credo, il sorriso veramente sulle labbra, e pronti anche a affrontare il mercoledì San Gregorio con la giusta carica. Era il primo dei tre appuntamenti casalemici, come ricordavi, il prossimo San Gregorio poi ci sarà a Padova, ecco, superato il primo, adesso si passa a pensare al secondo, come dicevi, un passo per vuoto. Adesso pensiamo al San Gregorio, inquadraci un po' la sfida, come sarà con i Siciliani, probabilmente una sfida molto simile a quella che abbiamo visto quest'oggi. Sì, sì, una sfida molto simile, ovviamente cambierà un po' l'aspetto tecnico-tattico della partita, anche in base al tempo, sai, un po' oggi ha condizionato, anche se non sembrava, perché abbiamo giocato quasi come se fosse una bella giornata. Beh, cambieranno sicuramente dei giocatori, abbiamo fatto anche oggi dei cambi in funzione proprio di mercoledì, qualcuno era fuori, quindi subenterà quelli che hanno giocato oggi. E niente, prepariamo la partita in questi due giorni, con semplicemente un'analisi video lunedì, è una rifinitura martedì mattina, quindi salenamento poco quando hai una partita a distanza di due giorni, insomma, rimane la partita, ecco, quella è la cosa più importante. Berriman, uno dei migliori in campo come sempre, Vezosi, man of the match. Mi sembra che insomma anche la linea di tre quarti funzioni molto bene, ma anche gli avanti hanno fatto il suo con Nifo e Call of Five, che sono stati sicuramente due giganti importanti. Sì, guarda, ma direi onestamente tutta la squadra ha giocato bene, io darei un premio speciale come voi a Filippo Vezosi perché veramente oggi ha fatto una grande partita e non era per niente facile, visto le condizioni climatiche e anche del campo. È un ragazzo che per la prima volta è stato messo lì, certo, con il lavoro di mesi alle spalle, ma non mai con continuità. Ha avuto questa chance e devo dire che si è giocata bene. Poi certo, il resto Berriman come sempre, ma sono contento anche per Nifo perché ha passato un brutto inizio del campionato, si è messo sotto, ha lavorato, ha abbassato la testa, quindi bene anche oggi, anche se poi, visto alla fine, aveva Crampi. Bene tutti, è inutile fare i nomi, insomma, bene tutti. Quando si fanno queste prestazioni qua, poi alla fine il premio diventa generale, diventa generale anche per il pubblico perché oggi si pensava ci fosse meno pubblico, invece siamo stati premiati anche da questo, una bella cornice, insomma, fa piacere anche quello.